Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Qua c'è un fan che mi sa chiedendo un sacco di cose, io gli ho chiesto qualche domanda e lui sa tutto del mio canale. Io gli ho scritto quanti iscritti ho? 31. Bravo, e chi era il mio primo iscritto l'ho detto in un video. Capita Alessandro, e perché dicevo di salutarlo? Perché è tuo cugino. È un genio questo. Adesso noi vi diremo delle cose. Adesso lui si è disconnesso e mi sa che è tornato a vivo. Quindi, ciao Anthony Piotto, sì perché si chiama Anthony Piotto, ha 8 anni. Ciao Anthony Piotto. Andiamo a cosa ci scrive. Andiamo a cosa ci scrive. Boh, ragazzi, cosa ci sto scrivendo? Io sto aspettando. Ecco, vedete? Ecco, vedete che lui è attivo. Ciao Anthony099 Boh 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 Ciao Io sono scioccato da questo fan. Sei il mio eroe. Cioè, adesso sono il mio eroe. Grazie. 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 Ti dico grazie. Con... un gel comunque sto fan mi piace tantissimo ok sto scrivendo sta scrivendo qualcosa come ti chiami ecco questa io non posso censurarla quindi devo scrivere il mio nome chiamo a ecco mi chiamo mi chiamo mica ti posso spoilerare il mio nome va bene mi chiamo vabbè io l'ho detto ve l'ho detto raga mi chiamo antonio era ovvio mi chiamo simone è ovvio niente raga sto fan comunque è il mio preferito cioè è il mio preferito non so perché ma gli piace tantissimo c'è il piace di mi piace è il primo c'è comunque iscrivetevi al canale lasciate mi piace di o si inghiozzano ok lasciato mi piace iscrivetevi al canale e hashtag e nei commenti video di hashtag anthony anthony c'è antony p8 ma ormai sappiamo tutti che il nostro nome ragazzi siamo antonio e simone antonio e simone qual è la tua mappa o qual è la tua mappa preferita e qua ve lo devo spiegare broccaven mi piace tanto broccaven ok vediamo cosa ci scrive anche la mia anche la mia anche la mia anche la mia bello ok ti seguo da 11 mesi sei il miglior fan del mondo sei il miglior fan del mondo sei il miglior fan del mondo vediamo cosa 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 c'è veramente davvero ha scritto davvero con così certo 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 c'è certo ovviamente c'è c'è io sono felicissimo di avere sto fan cioè di avere sto fan sto fan è più o meno la mia vita raga perché mi ha iniziato a dire anthony 9 anthony 9 anthony 9 anthony 9 anthony 9 mi rispondi mi rispondi quando ho visto sta chat piena ho visto anthony 9 io l'ho salutato ciao chi sei mi chiamo anthony p8 non ti voglio dire il mio vero nome va bene però adesso mi ha chiesto qual è il mio nome io io te l'ho detto cioè io non sono mai sono scioccato se mi vedete tutto strano è perché è perché sono veramente scioccato ho un fan che mi vuole bene ho un mio primo fan mi sa perché non ho tanti fan io siccome sai comunque raga nemmeno che what 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 nemmeno kendall è meglio di te c'è 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 c' E tu a 100 Chiunque sia Perché mi sa che è una persona C'è Bo Lion Come Come Voglio dire Lion è a 0 e tu a 100 Oddio Oddio Grazie Sei Il Miglior Fan Non Ci credo Finalmente Un Fan Grazie sei il miglior fan Non ci credo finalmente un fan Eh Eh C'è Una roba troppo epica Non lo so Non so Perché è veramente Veramente Bello Vabbè ti chiedo una cosa Quale Mappa Non Ti piace Quale mappa non ti piace Eh Vediamo Chissà Sta scrivendo Ok Sta scrivendo Ok Sta scrivendo Mi sa che è un po' lento a scrivere Ah ok M'ha scritto Vediamo M'ha scritto De school e super golf Vabbè Neanche A Me Piace Super Golf Neanche a me che De school golf Ma De Scol Un Po Di Più C'è Mi piace Un po' Più C'è C'è Mi piace Un po' di più Poi a qualcuno Mi scriverà Per forza Come ti fa Pricene Questa mappa È paurosissima Perché è paurosa Veramente C'è Paurosa C'è È Paurosissima Ok Io non sono Di tanti Provo Adesso Vabbè Ognuna Ha i suoi gusti Bravo Bravissimo Applausi 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 Dovente Venuti Applausi 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 Se non avete Conoscete Questa canzone Ve la scrivo Oddio C'è Dai Hai fatto Riportare La video camera Vabbè Ragazzi Sapete Che io Non sono Logico Ragazzi Ma il maiale Ha piazzato Un blocco Come Un maiale Su Vorrei Che tu Avessi 200.000 Iscritti Ma sei Ma sei Il migliore Ok E non può scrivere Questo fan Infatti Infatti Mi concentro Su quello che sta scrivendo Chissà Vabbè Poi un giorno Potremmo invitarlo Questo Anthony Piotto A giocare Nelle nostre mappe Vero Ti potremmo invitare E C'è Vabbè Te lo provo Per chiedere Quanti Anni Hai Penso Otto Dal Tuo Nome Quanti anni Hai Penso Otto Dal tuo nome Ok Esatto Grande 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 Oh c'è Sono colpito Dallo Sto fan Perché 0.99 In che senso In che senso 0.99 C'è Me lo devi dire Il tuo nome YouTube Ah 0.99 Perché mi piaceva Perché mi piaceva Ragazzi 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 si sta drogando Ragazzi si sta drogando Così emoji Cosa gli succede C'è 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 Lo smetto questo c'è 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 Cosa Chi lo sa Chi lo sa Vediamo se si vuole Rivelare Maschi Ok Si sta diranno Ok Mi sembravi Femmina Mi sembravi Femmina Atto Perché c'è Un Perché Cosa What What Basta dire The what Sto lo dice Ancora Mamma mia Conte sbagliato Arrivano Eh Ragazzi C'è scritto Anche là In alto Che c'è Scritto Intanto Intanto 8 No Vediamo Sto scrivendo Tu fratello È Ma Tu fratello No Vediamo Mi scusi Signore Vabbè Non riesce A mandare C'è Non riesce A mandare Visto Un messaggio Ah Scemo Quindi voleva Dire Ma tuo fratello È scemo Sì Tantissimo Tantissimo Sì Tantissimo Ok Perché quando vedo Che sta scrivendo Posso salutarlo Ok Vuoi salutare Il fan No Ti vuole Salutare E Non So Per Che Non Ti vuole salutare Non so Perché Cioè Perché Mome Non vuoi salutarlo Mi sta antipatico Eh Sta dicendo Peccato Peccato C'è qualcosa Di sospetto In lui Perché Sembra che Tu stia Parlando Con Lo sconosciuto Sembra che Ha detto Che Ti vuole Bene Io No Ha Detto Che Lui No Mi Spiace Mi spiace Anthony Mi spiace Oddio Mi Mi spiace Anthony P8 Ha detto Che lui No Mi spiace Come Non li vuoi Bene Perché Mi sta Sempatico Mwè Ha Detto Mwè Mwè Un attimo Mwè Se ha Detto Mwè Vuol dire Che Arto Smetti Il video Smetti Mwè Non Sai Con Chi Stai Parlando No Non è Che Sia Un caso Brutto Tipo Ma che Sai Chi è Ci controlla Ci controlla Cioè Se Io ho Detto Queste cose Lui Vuol dire Che Ci sente Ci sente Ha detto Mwè Perché Io L'ho Detto Queste cose Brutte Ma Tu Non le Hai Scritte Tutte Quindi Lui Ci Controlla Ma No No Perché L'ho Detto No Perché L'ho Scritto Guarda Posso salutarlo Ok Te lo chiamo Non ti vuole salutare Non so perché Peccato Li voglio bene Ha detto Che Lui No Mi Mi Spiace Mi Sciogliate Vabbè Mi spiace Entone Piotto E Mi ha scritto Uè Ma Lui Ma Comunque Tu Non sai Con chi Stai Parlando Io Ti Concedo Che Non Devi Farlo Un altro Dice Che Sei Uno Sconosciuto Ma Non è uno Sconosciuto Ma Certo Che Non è uno Sconosciuto Ma come Ma come Sono Un tuo Fan Certo Come Sconosciuto Ma È Lui Che Si Pre Occupa Ma Lui Che Si Pre Occupa Ma Io Non È Che Mi Sto Pronta Ragazzi Lo So Ma Si Pro Un attimo Sta Zitto Un attimo Sapete Che Si Aiuto Ragazzi Sapete Che Se Un attimo Un attimo Sto Scrive Ok Raga Sto Scrivendo Ragazzi 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 Un attimo Ora 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 Vabbè ragazzi Ci vediamo Un prossimo video Finito 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 Scriviti Scriviti Scriviti